Un incontro come risorto. Sarà Monsignor Nicolò Anselmi il nuovo Vescovo di Rimini, dopo che Papa Francesco ha accolto la rinuncia al governo pastorale presentata da Monsignor Francesco Lambiasi. Monsignor Anselmi era attualmente Vescovo titolare di Utica e ausiliare dell'Arcivescovo di Genova. 61 anni, Monsignor Anselmi è nato a Genova, ordinato prete nel 92, è stato in diocesi, tra l'altro, responsabile del servizio di pastorale giovanile, in carico rivestito poi anche a livello nazionale fino al 2012. Nel 2015 è stato ordinato Vescovo dal Cardinale Angelo Bagnasco. È segretario della Commissione Episcopale CEI per la famiglia, i giovani e la vita.